Con un semplice gesto si può salvare una vita. Questo è il messaggio lanciato da Admo Piacenza, che questa mattina era in Piazza Cavalli per aderire a Match It Now, la campagna nazionale di sensibilizzazione per la donazione di midollo osseo. I volontari fanno appello ai cittadini per iscriversi al registro nazionale, per il quale servono tre requisiti. Un'età da 18 ai 35 anni, poi una volta iscritti si resta fino a 55 anni nel registro. Il secondo requisito è avere a meno di 50 kg di peso per poter donare una quantità di sangue midollare sufficiente per il malato ed essere in buona salute. Positivo per ora il bilancio degli iscretti sul territorio. La donazione di Piacenza sono iscritti 7.150 persone, grossomodo. La cosa che ci conforta molto, che ci gratifica e non ci sforza, è che ad oggi, fino a quando è iniziata l'attività di Admo Piacenza, abbiamo avuto 52 trapianti. Sappiamo, qual è il discorso di base, che essere compatibili con una persona al di fuori del proprio nucleo familiare ha una percentuale molto bassa, di 1 a 100 mila. E quindi, logicamente, più persone saranno iscritte nel registro, più possibilità diamo a una persona di poter salvare una vita.